Sulla morte dell'uomo ucciso a Viareggio investito dalla balneare Cinzia d'Alpino dopo la rapina della borsa, con un comunicato interviene il sindaco Giorgio del Ghingaro che nell'immenenza del fatto non aveva voluto rilasciare dichiarazioni. Nel comunicato stampa il sindaco scrive Viareggio non è la città della vendetta. Le immagini violentissime riprese dalle telecamere di sicurezza e rimandate in tutti i tg nazionali non hanno mostrato un episodio che non può e non deve descrivere la nostra città. Vergognosamente prosegue. Si sono alzati i cori sguaiati di chi inneggia la legge del taglione, tifoserie e strumentalizzazioni politiche che disegnano una città violenta che non esiste. Come istituzioni democraticamente elette non possiamo in alcun modo giustificare. La giustizia fai da te. Per del Ghingaro le indagini in corso chiariranno tutti gli aspetti e stabiliranno responsabilità e pene ma resta il fatto che una vita è stata spezzata. Le tragedie come questa meritano riflessione e silenzio e rispetto per tanto dolore. L'autopsia fatta oggi ha rilevato politraumi con lesioni interne tali da determinare il decesso. Verranno però fatti ulteriori accertamenti medico-legali. La salma verrà liberata dall'autorità giudiziaria e a questo punto i familiari potranno organizzare il rimpatrio in Marocco. L'uomo avrebbe avuto età, nazionalità e nomi diversi da come lo conoscevano le autorità italiane e forze dell'ordine comprese. Lo riporta oggi il quotidiano Il Tirreno. Secondo quanto risulta il giornale si chiamava Nordin Naziki, aveva 52 anni ed era marocchino come hanno confermato anche le sorelle in un appello tramite una televisione locale di Casablanca, la città dove vivono. Per i documenti e le identificazioni finora note alla polizia invece avrebbe avuto 47 anni, sarebbe stato algerino e si sarebbe chiamato Said Malcun. I suoi familiari si sono mossi insieme agli amici anche prendendo contatti con un legale a Viareggio.